C'era la mafia palermitana dietro un traffico di droga dalla Campania alla Sicilia. Otto le persone arrestate, altre due sono ancora ricercate. Quintali di ascice e cocaina viaggiavano a bordo di alcune auto. Dopo due sequestre consecutivi dei pacchi di droga a distanza di dieci giorni, l'uno dall'altro, l'organizzazione ha ripiegato su un camper per trasportare gli stupefacenti. Accorgenza inutile perché da mesi la banda era seguita dagli uomini della sezione antidroga della squadra mobile di Palermo. Il capo dell'organizzazione era Francesco Scimone di 44 anni per gli investigatori affiliato al clan di Imbrancaccio, già in carcere nel corso dell'operazione Alexander. L'uomo poteva contare su una fitta rete di spacciatori e corrieri.